quando tu miss al giovedì sempre alle 17 30 dire chi dal macellaio opulento prediligi sia tanta carne rossa ti aggiri con grandi sorrisi tra lo scamone e il girello arista sapida e filetto cappello del prete e medaglioni per poter confermare un piacere se mai fosse possibile poter parlare ma sottovoce chirurgo prima mi hai anestetizzato con un sapiente cocktail di farmaci per indurre sonno ed evitare dolori una volta certo che io dormissi mi hai con cura devitalizzato ossia procedendo in ordine perfetto una lama sottilissima lucente ha aperto il lato sinistro del torace una volta spalancato hai ritagliato con piacere il cuore così finalmente dichiaratomi trapassato io il paziente più incurabile perché di sana e robusta costituzione quindi